Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo oggi la prima maglia della Litiad per la stagione nuova, la 23-24, in edizione player, ovviamente la maglia di Benzema. Grazie per la visione! Con l'arrivo di tutti questi campioni l'attenzione si è spostata sicuramente anche in Arabia Saudita. Questa maglia è molto bella, fatta molto bene, il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che trovate tantissime offerte sul sito, andate a vedere cosa vi attende. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere queste e altre bellissime offerte. Prima di lasciarvi mi raccomando iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia grande della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia grande della versione.